Eccolo il portiere Under che tanto serviva e da tempo al calcio Avellino, Aniello Viscovo e un nuovo tesserato dei Lupi. L'estremo difensore, dopo aver risolto il contratto con il Crotone, ha raggiunto il Partenio Lombardi, dove ha firmato per i Biancoverdi, mettendosi subito a disposizione di mister Giovanni Bucaro e del preparatore dei portieri Fabio Patuzzi, salutato in campo dopo poco meno di un'ora dall'inizio dell'allenamento pomeridiano. Viscovo, oltre al gran bene che si dice su di lui, di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi, ha destato immediatamente una buona impressione ai pochi coraggiosi presenti sugli spalti, nel bel mezzo del diluvio, per la sua imponente struttura e grande stazza fisica. Nel comunicato diramato dal club Irpino per ufficializzare il raggiungimento dell'intesa con il ragazzo campano, nato a massa di somma il 21 giugno, viene ricordato che il talento classe 1999 è cresciuto calcisticamente proprio nel crotone calcio, con il quale ha collezionato anche 25 panchine in Serie A. Per lui, come noto, pure un'esperienza in Serie C, con la Vibonese, che ieri aveva reso nota la conclusione del suo prestito. Viscovo è un portiere di grande prospettiva, ha dichiarato il direttore sportivo Carlo Musa. Con lui assicuriamo a mister Bucaro una soluzione under importante tra i pali. Ora toccherà a lui, in questi cinque mesi, dimostrare il suo valore e far parlare il campo. Curiosità, il neo numero 34 della Rosa Vellinese è stato accompagnato dai suoi genitori, visibilmente emozionati nel vedergli parare i primi palloni nella porta sotto la curva sud.